Salve cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo nel Borneo in Malesia a Pontianac in un centro commerciale veramente molto bello, pur essendo questo un posto fuori dal mondo e anche molto particolare per le condizioni che si trovano, parliamo delle strade, le canalizzazioni foniarie a cielo aperto in centro città, tuttavia il posto è molto bello, ci sono delle cose molto interessanti, delle prelibatezze che non mancherò di degustare, abbiamo un posto molto particolare, molto bello, vi faccio un po' vedere, abbiamo anche qui la famosissima salsisca gariaci che si trova anche a Russia, qui hanno messo anche il ketchup, proprio in questo caso parliamo di russificazione alla massima potenza. Eccoci qua, e abbiamo anche il classico panettone, non poteva mancare il panettone come tutti voi saprete, il panettone con l'uvetta, come tutti voi saprete il panettone è originario del Borneo, poi quando gli indigeni nel 2000 a.C. sono arrivati in Italia hanno portato anche lì la ricetta. Ecco, qui abbiamo anche il famosissimo panettone al cioccolato che è ancora più buono. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima.